Torniamo a trovare una nostra vecchia conoscenza, SAJ. Torniamo a parlare di SAJ come l'anno scorso ci ritroviamo di nuovo qui. Un anno dopo, facciamo il punto, com'è andato il 2022? È andato bene, il 2022 è andato bene, è andato per quanto ci riguarda, vorrei dire in linea con l'aspettativa, in realtà è andato meglio dell'aspettativa. Quindi il mercato ovviamente ci è venuto incontro, ha veramente una spinta molto importante. Devo dire che SAJ, qui mi riferisco alla supply chain e alla casa madre in Cina, è stata molto brava a ottimizzare le fonti di fornitura per riuscire a sostenere i volumi che i nostri clienti ci hanno richiesto. Sia con i piccoli prodotti, vale dire piccola potenza, residenziali, sia con i nuovi inverter che stanno presentando in queste settimane, che stanno arrivando in Italia in queste settimane, e la potenza è un pochettino per gli anni, quindi decisamente molto brava. Ecco appunto, tempi di consegna ad oggi come siamo messi? Ma i tempi di consegna direi che per quanto riguarda la piccola taglia residenziale, sia con accumulo, sia senza accumulo, quindi stiamo parlando di una taglia che ha già una storia, diciamo così, come SAJ, fin dall'anno scorso, pianificazione fin dall'anno scorso, direi che se non parliamo di pronta consegna poco ci manca, quindi i nostri distributori hanno gestito la pianificazione dei volumi, non soltanto prevedendo gli ordini ma prevedendo anche un'eventuale extra richiesta. I prodotti invece che abbiamo presentato al mercato, le nuove linee, i nuovi prodotti, a partire da quest'estate, quindi dall'estate scorsa, da luglio-agosto, la produzione è cominciata quindi rispetto al vicendio di un pochettino che è tardi, i tempi di transizione, quindi due o tre mesi di consegna della Cina, hanno evidentemente avuto loro peso, ma stanno arrivando container dei nuovi tre fasi, come dicevo prima, con 50 kilowatt, e in tutto il fine anno arriveranno i primi container delle nuove serie da 100 toni, quindi con volumi, purtroppo, per fortuna, inferiori alle richieste, devo dire, però decisamente siamo già organizzati per cercare di rispondere e di dare un numero di unità il più vicino possibile alle richieste, quindi bene. Bene, bene, dai, non è da tutti quest'anno riuscire a sostenere la spinta. Gran parte del successo, devo dire, comunque dei numeri che abbiamo ottenuto, è stata data sicuramente grazie alla propria consegna, alla disponibilità del pubblico. Prodotti novità 2022-2023? Allora, prodotti novità non ricordo se l'anno scorso, probabilmente li avevamo già presentati in qualche maniera di un'altra prima, ma sicuramente adesso, nel momento dell'anno scorso, era probabilmente qualcosa che non era semplicemente ovviamente sulla carta, ma era in fase di sviluppo. Adesso possiamo parlare di cose, perché qui è un pochettino il nostro prodotto, che rappresentiamo con il prodotto di Junta, qui a Chienergy, che sono le due soluzioni monofase, qui di fronte a me, di applicazione con accumulo all-in-one, quindi dove l'inverno è integrato dal punto di vista di un assemblaggio, da capire, diciamo così, alto-petonico, con i modi di batteria, in maniera tale da dare, innanzitutto, un aspetto più compatto, e diciamo anche più presentabile dal punto di vista del prodotto, rispetto a quello che è l'H1, e inoltre la possibilità di poter ridurre, grazie ai tablaggi pre-forniti, quindi già pre-tagliati, rispedibili, in maniera tale, già nelle protezioni, così che varie modi, in grado, siano collegati già con i tablaggi già presenti, riducendo in massima dal 35% al 40% del tempo di assemblaggio del prodotto classico inverto al separato. Certo, ma però... Diciamo, le caratteristiche sono quelle che già erano presenti nel prodotto monofase H1, quello che è su un'inverno, da più di un anno, quindi il WMPT, 50% in più del carico fotovoltaico rispetto alla potenza nominale di picco, 15A di per stringa, qui un miglioramento rispetto alla versione di picco, la potenza, la potenza, la efficienza, la potenza, cassetti di batteria da 5.0 kWh ciascuno, che possono essere impilati, quindi assimilati per un inverter fino a 5, quindi 25 kWh per le fasi e 20 kWh per il monofase. Sempre con la motor scena in AC, per dire verso rete e backup, che consente di poter alimentare anche senza rete i carichi critici con una potenza che è praticamente la stessa potenza nominale dell'inverno, quindi un inverter di 5 kg va a un backup. Ah, un backup da 5. E un inverter a 10 ha un backup da 10. Tra l'altro la caratteristica del backup, così come riuscita verso la rete, è la gestione dello squilibrio del fasi, quindi la possibilità di poter gestire carichi differenti sulle varie fasi, fino all'aggiungimento della massima potenza, ma non semplicemente lasciando un'eventuale sovraccarico sulle varie fasi. E mi consente di dire comunque una parola su quelli che sono gli inverter per applicazione S&I, con la nuova linea R6 fino a 50 kWh, già disponibile, già acquistabile, presso i nostri venditori e il prodotto anch'esso che ha già completato lo sviluppo e siamo in fase di produzione, stiamo producendo in queste settimane quello che sta arrivando. Esatto, fino a inizio nuovo anno l'inverno è fino a 125 kWh, che è un pochettino la gamma che ci fa fare quel passo in più rispetto alla tradizione S&G. Quindi nel 2023, residenziale o industriale? Allora, diciamo che entrambi sicuramente, il residenziale perde probabilmente un supporto in caso dalle famose incentivazioni, purtroppo devo dire forse lo guadagna per quanto riguarda invece veramente forse quello che dovrebbe essere considerato il fotovoltaico, vale a dire non un investimento finanziario è una cosa che consente veramente di risparmio energetico e purtroppo, devo dire, ce ne stiamo convincendo con incrementi di costo che stiamo vedendo. Sicuramente, se quest'anno abbiamo parlato di un 90% residenziale, 10% presto, in termini di semplici unità probabilmente convinceremo veramente ad avvicinarsi un 60-40. In termini di potenza, secondo me, il commerciale supererà di gran lunga di residenziale. Ok, sempre in ottica 2023, i prezzi secondo te aumenteranno e diminuiranno? Allora, diciamo così, se seguiamo quello che è il trend attuale senza tirare in ballo le possibili situazioni, lasciami dire, ora dico questo pallalone, geopolitiche, nel senso che situazioni politiche internazionali possano intervenire da questo punto di vista qui, io non aspetto quantomeno per quanto riguarda l'inverto o l'incremento di prezzi. Sicuramente non può dire in grado. Il dubbio può venire su alcuni componenti critici, che sono quelle grandi potenze, quindi da 100 kW per su, di GBT, e per quanto riguarda le batterie, chiaramente il costo delle celle al litio. Che però, sul momento, in un momento trend di incremento, io mi sentirei di dire che non li dico. Addirittura non stiamo lavorando per fornire ai nostri clienti i prezzi di cultura di tutti. L'ultima domanda, in quale tecnologia arriverà in 2023? Su cosa state lavorando? Allora, noi SAG deve fare alcuni passi ancora e lo sviluppo del commerciale, dell'industriale, secondo me tracciano quella linea. Noi abbiamo due linee in questo momento. Una è il prodotto hardware, e quindi l'idea di incrementare la potenza andando oltre 125 kW, magari con uno primo step ideale di 250. La seconda linea, invece, è la gestione, il monitoraggio del software, vale a dire un sistema, la soluzione che sia non soltanto il monitoraggio dell'inverter, quindi diciamo la semplice app, il portale, ma qualcosa che vada ad integrare l'inverter in un sistema di risparmio di efficienza più che energetica, commerciale, nel senso di integrare un sistema che tenga come non solo dell'ottimizzazione, e credo che lo schema che vedi qui dietro lo possa ben rappresentare dal punto di vista di gestione globale di tutti quelli che sono i carichi, in questo caso domestici, ma anche commerciali o industriali. Quindi come un sistema che tiene a punto della produzione, che tiene a punto dello storage, ma che tiene a punto dei consumi attivando o disattivando in funzione dell'effettiva disponibilità e convenienza le varie utenze. Prese smart. Esatto, esattamente. Ma anche considerando in un'ottica e nel passo successivo la possibilità di inserire il sistema in piattaforme di trading energetico in cui il costo dell'energia stessa possa essere un'altra variabile della reale convenienza del sistema. Quindi assorbire o cedere alla rete non solo per ottimizzare la casa, ma a seconda della mia convenienza economica come produttore indipendente di energetica. Sono molto d'accordo. Effettivamente è la direzione in cui sicuramente nel domestico, ma anche industriale, commerciale, dovrà dirigersi. Quindi stiamo lavorando su quello chiaramente con algoritmi di intelligenza artificiale che possano aiutare in questo caso qui non soltanto le ottimizzazioni, ma anche la previsione di produzione. Quindi per quello all'attimento atmosferico già prevedere nelle ore, nei giorni successivi, quello che può essere la produzione adattandola alla reale vicissità, al reale vantaggio economico. Questo è un po' dove stiamo lavorando. Molto bene. Ti ringrazio. Grazie mille a te. Sempre molto interessante.